Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo88 e prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate il link che vi rimanda al mio shop ufficiale dove trovate il mio merchandise, ad esempio ci sono le magliette come quella che indosso con il logo classico sul davanti in vari colori, poi ci sono anche quelle con il logo classico piccolo qui e dietro il logo più grande tipo questo ma modificato in modo che sembra avere la faccia sfondata con sotto l'endoscheletro in stile Terminator quindi simile a quello del T800, è un'ispirazione ovviamente, poi trovate anche i cuscini e le tazze e a breve arriveranno anche altri oggetti che penso potrebbero interessarvi, quindi se la cosa vi interessa sapete cosa fare ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi perché sto già per sentirmi male allora come penso molti sapranno, ieri è stata diffusa la locandina ufficiale di un film di Enrico Vanzina che dovrà uscire il 15 di ottobre, la state vedendo in questo momento, il film si chiama Lockdown all'italiana e vi prego di guardare questa locandina con attenzione vi accorgete che ci sono così tante cose sbagliate che non ci si crede che siano state ficcate tutte in un singolo poster e io quando l'ho guardato per la prima volta ho pensato, non è possibile, io non posso crederci non so come sia il film, però diciamo che le premesse non sono delle migliori e siccome sono così tante le cose da dire su questa locandina e vi giuro non mi era mai capitato di poter trarre così tanti putri di spunti di riflessione da una locandina ho pensato di elencarveli in questo video perché ho bisogno di sfogarmi, mi sento male posto che come vi ho già detto il cinema anche nel nostro paese a livello di presenza in sala è messo talmente male per via del covid che va bene qualunque film che possa incassare c'è un limite di quello che io posso accettare per cui ora mettetevi comodi e vediamo perché questa locandina dovrebbe far temere l'alito della morte a chiunque vi posi sopra lo sguardo in primo luogo il titolo lockdown all'italiana questo titolo secondo me è sbagliato per ben due ragioni innanzitutto credo che scherzare su una cosa che ci ha colpiti tutti in maniera così dolorosa come il lockdown degli scorsi mesi con un film pecoreccio alla vanzina sia abbastanza di cattivo gusto però è vero che io il film non l'ho visto ma diciamocelo sono tutti uguali anche i cast è praticamente sempre lo stesso ma di quello parleremo dopo però diamogli il beneficio del dubbio magari volevano solo scherzare sul lockdown anzi sicuramente l'intento è quello però va anche detto che se una persona ha tanta voglia di scherzare ma non fa un cazzo ridere a un certo punto viene anche la voglia di dire senti hai rotto i coglioni ma vabbè poi la citazione lockdown all'italiana è un po' insomma pregno di quella sensazione che può dare il termine commedia all'italiana oppure per citare un film uno strano divorzio all'italiana lasciate stare pietro germi dov'è lasciate in pace pietro germi non rompetegli i coglioni non c'è bisogno di citarlo in ogni film di merda che viene fatto da queste persone ok lasciate stare pietro germi lasciatelo riposare lasciate riposare in pace pietro germi quindi già il titolo presenta delle problematiche e mi fa alzare gli occhi al cielo così tanto che quando ho guardato la locandina per la prima volta temevo che mi si fossero paralizzate le pupille in questa direzione ma veniamo al secondo motivo per cui questa locandina è fottutamente sbagliata il nome del regista un film di Enrico Vanzina allora i Vanzina erano due poi purtroppo Carlo è venuto a mancare tempo fa e a me devo dire che era spiaciuto perché comunque insieme almeno agli inizi avevano creato dei film che ancora oggi sono molto apprezzati che non hanno molto a che fare con i cine panettoni degli ultimi anni fin come i primi vacanze di Natale oppure vacanze in America non erano sicuramente roba degna di Orson Welles ma potevano strappare qualche risata perché erano molto contestualizzati all'epoca in cui uscirono e c'era anche una parvenza di critica sociale che poteva starci era un'evoluzione differente della solita commedia all'italiana un po' più volgarotta, un po' più cacciarona però non faceva male a nessuno alcuni di quei film sono anche diventati dei veri e propri cult tra gli appassionati e non c'entrano nulla con un Natale in India oppure un Natale a Miami e quell'epoca lì che erano invece di neri parenti però il problema è che Enrico Vanzina era più che altro quello che cosceneggiava i film io capisco la voglia di portare avanti il nome dei Vanzina però diciamo che non era quello talentuoso tra i due sicuramente non alla regia e non me ne voglia e compianto Carlo non è che lui fosse particolarmente talentuoso a livello registico siccome molti consideravano il più talentuoso dei due Carlo Vanzina e già i film quando erano insieme non è che fossero sta bellezza soprattutto negli ultimi anni il fatto che ci sia dietro il sole Enrico Vanzina a me mette abbastanza i brividi ed è un discorso dal mero punto di vista artistico e non vuole essere un giudizio sulla persona assolutamente ci mancherebbe non so chi sia umanamente Enrico Vanzina quindi non mi permette di giudicarlo però diciamo che insomma cioè proprio già in generale in due non è che fossero sti mostri di creatività negli ultimi anni i film erano tutti uguali e quindi già il fatto che sia un film di Enrico Vanzina a me fa tremare le vene dei polsi il terzo motivo per cui questa locandina è dannatamente sbagliata è il cast ancora una volta abbiamo Paola Minaccioni e Ricky Memphis sono anni se ci fate caso che ogni anno esce un film con una locandina veramente orribile in cui compaiono tra gli attori Paola Minaccioni e Ricky Memphis tutti film dei Vanzina è come se non volessero più cambiare cast e adesso che è rimasto solo Enrico vuole portare avanti questa tradizione di scegliere sempre gli stessi con qualche piccolo cambio perché se ci fate caso c'è anche Martina Stella Martina Stella era l'attrice più ambita degli italiani nel 2001 ora Martina Stella non è mai stata un mostro di bravura e adesso ogni tanto riciccia fuori indovinate dove nei film dei Vanzina l'ultimo in cui l'avevamo vista era stato Natale a 5 Stelle dove per l'appunto interpretava questa politica che se la faceva con il simil conte interpretato da Massimo Ghini anche quello era un film da un'idea di Carlo Vanzina che non aveva potuto sviluppare perché era venuto a mancare prima che potesse riuscirci ora La Stella è superata a livello di fama cioè proprio è un po' come quando è un po' come Antonella Elia che la vedi in tutti i reality perché ormai non può fare che quello non può perché portare la sua ingombrante personalità che fa ridere gli italiani e a me dispiace perché c'è una ridicolizzazione di quella povera donna che è incredibile e campa così ecco Martina Stella sembra che stia andando un po' dove la chiamano perché ormai non è che se la cacchino più di tanto a livello attoriale ma soprattutto abbiamo lui il campione della comicità che non è degna di tale nome l'uomo dalla battuta imbarazzante è sempre pronta una vera e propria icona e uso una parola che odio del cringe perché è l'unica persona che quando parla mi fa pensare santo Dio che cringe e sapete quanto io odio la parola cringe e tutti quelli che usano sproposito questa fottuta parola ma lui mi fa venire voglia di usarla Ezio Greggio Ezio Greggio è titanico Ezio Greggio non si sposta lo vedi in televisione lo vedi nei film a volte saltoriamente lo vedi come regista vi ricordate Box Office 3D è lì lui è lì che ti guarda ti fissa con quel sorrisetto di chissà che tanto puoi odiare le sue performance quanto vuoi ma lui non se ne va lui rimarrà lì perché per qualche motivo ignoto che nessuno ancora è riuscito a capire gli italiani lo amano secondo me secondo me si è verificata una stranissima situazione un fenomeno assai raro per cui una volta Ezio Greggio era amato e nessuno dei produttori e di chi gli dà credito si è accorto che non è più amato come un tempo e quindi lui va avanti è come un tizio che credi di aver licenziato ma che continua a presentarsi in azienda e gli dai la busta paga per abitudine è un po' quella sensazione lì cioè io quando ho visto il cast però vorrei decirlo la Minaccioni e Memphis sono anche ok non è che ci sia un problema grosso con loro due è solo che sono sempre lì fanno sempre gli stessi personaggi cioè i Memphis fa sempre quella la Minaccioni fa sempre quella che viene schernita perché dicono sempre che è brutta che io dico perché poverina cioè è una è una donna normalissima poi ma poi anche fosse ma perché bisogna cioè nel 2020 siamo ancora fermi le battute del quella è bella quella è brutta quello è romanaccio quello quattro cioè ma non ci siamo evoluti da quel punto di vista adesso non so come sarà questo film ma ve lo ripeto sono tutti uguali a me a me fa male fa paura la sola idea di questo film e quindi sì il cast può essere un discreto problema la grafica perché ostinarsi a utilizzare delle grafiche se non sai riconoscere un grafico bravo da un grafico che non è capace o meglio magari chi si è occupato di questa locandina a livello grafico è bravissimo il miglior grafico che esista ma ha avuto delle direttive dall'alto dal cliente che lo hanno costretto a fare una locandina brutta perché non escludo che possa essere carino di produttore dicendo allora allora qua la dobbiamo far così cos'ha così e il grafico giustamente possa dire ma è una merda bravo quello deve essere è una merda perché così attira di più può anche darsi non lo escludo ormai non do più nulla per scontato e fateci caso non sono presenti su alcun balcone è tutto finto è tutto disegnato perché scontornati male poi con Memphis con quello sguardo triste che 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 annaffia la pianta grassa Ezio Greggio in boxer si copra la prego signore Ezio la si copra la stella con quella fetta di culo mostrata giusto per per far vedere che nel film c'è anche la patonza è una cosa così disgustosamente anni 90 che potrebbe essere esposta nei musei per la sua bruttura grafica con queste finestre disegnate questi balconi finti perché ma almeno scontorna l'imposizione diversa e sono in queste posi plastiche sembra una roba da teatro dell'assurdo e mi comunica una tristezza infinita ed è la locandina di un film comico ma perché ma chi ha avuto l'idea di questa chi chi ha avuto l'idea e adesso passiamo al pezzo forte l'ultimo motivo per cui questa locandina è qualcosa di atroce è la data dal 15 ottobre nei cinema il lockdown è stato insomma qualche mese fa è finito a maggio ok giugno luglio agosto settembre ottobre cinque mesi l'avranno dovuto scrivere no il giro di così poco ti va ad uscire questo questo film io io francamente allora dicevano che è stato è stato girato veramente in poco tempo io non lo so Netflix ha acquisito un prodotto sul lockdown che pare sarà qualcosa anche con attori di una certa importanza di molto potente ecco loro inteso come all'estero fanno questo noi sul lockdown produciamo questo e io dico sempre di non essere prevenuti mai però ragazzi in questo caso io faccio molta fatica a pensare che questo film possa essere interessante anche perché porca puttana come fa a essere interessante un film con Ezio Greggio cioè so che ci sono persone che per via dei ricordi di infanzia adorano il silenzio dei prosciutti pur sapendo che non sia un bel film diretto e interpretato da Ezio Greggio ecco io neanche quello quando lo vidi per la prima volta pensai ma cos'è sta merda era un bambino molto precoce cos'è sta merda perché quindi secondo me a naso potrebbe venire fuori una merdina non lo so so solo che non mi capacito di come continuino a finanziare questa roba ma sapete perché questi film non fanno grandi incassi ma fanno abbastanza per poter rientrare nei costi e addirittura guadagnarci un minimo perché tanto li girano con veramente così pochi soldi relativamente al budget che può avere un film di medio livello in Italia che glieli continuano a far fare è come dire si dai tesoro continua a porti preoccupare tu mi porti i soldini e poi noi ti facciamo fare l'altro l'anno prossimo è quella roba lì è quella roba lì e io ragazzi sono stufo sono stufo perché cazzo ma vogliamo finirla con certa merda ma perché continuiamo a foraggiarla è anche vero come ho detto prima che comunque se questo film dovesse incassare andrebbe bene il problema è che io lo so che questo film non incasserà perché questi film non incassano tanto in periodi normali figuratevi in un periodo come questo dove gli incassi sono già bassi di loro e allora magari si poteva puntare su qualcosa di un attimo più frizzante dai in mano un film a un regista con una versione particolare della comicità attori con una vera viscomica non Ezio Greggio porca puttana ma si sa se continuano a farli perché vuol dire che qualcuno li va a guardare quindi bella per loro noi il 15 ottobre dovremmo vedere cioè dovremmo non è che siamo obbligati io lo andrò a vedere per una mia curiosità scientifica ho la pelle d'occasone a pensarci e niente ragazzi quindi questa è una sorta di analisi della locandina di lockdown all'italiana e vi posso dire che io ho una paura fottuta una paura dannatamente irrimediabilmente fottuta ma neanche del film in sé ma già dalla locandina la guardo ogni tanto e lei mi fisso indietro ti restituisce lo sguardo ti guarda e dice faccio cagare faccio cagare quindi a questo punto sono curioso di vedere il film come quando come dico sempre c'è un incidente stradale tu non vorresti guardare ma non puoi perché c'è questa atavica curiosità verso l'ignoto verso tutto ciò che è horror anche in real life che ti impedisce di distogliere lo sguardo sono un po' inerme in questo modo per cui fatemi sapere voi cosa ne pensate in un commento qui sotto perché io francamente qua i pensieri io ho esauriti quindi io vi abbraccio che se è andato va tanto bene e noi ci vediamo al prossimo Moivlog ciao a tutti